In Antartida sarò da solo. Dovrò spingere una bicicletta e una slitta con un peso di oltre 100 kg, che è quasi il doppio del mio peso corporeo. Troverò temperature medie di meno 30 gradi e i venti katabatici che espireranno a oltre 80 km orari. Avere una tuta che mi consenta di superare questa sfida è fondamentale ed è una tuta all'interno della quale io dovrò letteralmente vivere e sopravvivere per 60 giorni e spero che mi consentirà poi di attraversare l'Antartide in maniera sicura.